Sesta del convegno, 4 anni, doppio chilometro, in 11, quindi 8 e 3, 8 in prima, 3 in seconda, mezzo meccanico in movimento, Ravel B e Rino Jet sono i più gettonati, ma anche Ransom ha molti sostenitori. 11, 4 anni, sesta, doppio chilometro, allineamento che va a completarsi. Via la macchina, in velocità. Alla grande, Rasia degli Ulivi, scende lungo i Birilli, all'attacco della piegata, l'errore di Renoso, all'argo Regina Prince che galoppa, di dentro Ransom, poi all'argo Raimo Jet, poi Rondinaia. Si va al completamento del lancio, nell'ordine del 15 e 4, e Ransom si presenta a chiedere strada, potrebbe essere un classico freeway, VP manda via, infatti l'allievo di Forino ha il comando. 400 iniziali in 30, rimane in asino al vento Raimo Jet e ora amministra il vantaggio il buon Raff con il suo Ransom. Curva, la seconda curva, con il Felix del Nord, che lo passa in 45 e 2, questi 600 iniziali. E ora aggrado ulteriormente e all'argo si è formata un'altra fila. c'è anche Ravel B, per linee esterne, nella scia di Regina Gioiosa. 1, 2 e mezzo, il mezzo miglio. Tutto tranquillo davanti alle tribune. E siamo al completamento e chiusura del primo chilometro. Ransom lo può passare nell'ordine del 18 e qualche spicciolo. Penultima curva. Raimo va a far pariglia con Rasia, degli Ulivi al comando, fa un po' i propri comodi il Ransom. Mezzo miglio alla conclusione. I cavali affrontano il penultimo rettilineo. Ransom, Rasia, allargo sempre Raimo Jet, di dentro Rondinaia. Si fa notare Ravel B, che punta in avanti. Spunto di Ravel B, che in poche battute va su Ransom. E lo ha pariglia. I cavalli affrontano la curva finale. Il miglio in 2 e 4. Sta passando Ravel B, ma si ingamba a Rino Jet. Tenta lo stacco Ravel B. Ravel B ha il comando su Rino Jet. Ravel B vive sul vantaggio. Il palo si sta per avvicinare e questa volta non bisogna dire che fretta c'era, maledetta primavera. Per il secondo, D'Artagnan, pizzica Rino Jet. 1,16 e mezzo. Questa volta pennella il buon Cin Cin. Cin Cin. Cincinnato. Con un bello Cin Cin da questa sera. 3,11 euro in chiusura. Bel primo piano di Ravel B. Non male questa razia degli ulivi sul doppio chilometro, che sarà per la prossima sul miglio. Sicuramente da seguire, soprattutto in prima fila. Non male anche Rino Jet. Linea alla regia. Grazie.